L'immagine di ieri rimarrà per sempre scolpita nella storia di Napoli e non solo. Io credo che è stata una giornata indimenticabile, lacrime, emozioni, ricordi, passione, compostezza, profonda umanità. Napoli in sette ore ha organizzato un funerale all'aperto e non si era mai fatto nella nostra città. Quindi il mio ringraziamento straordinariamente sentito alle donne e gli uomini di questa città che hanno consentito questa operazione di organizzazione senza precedenti. A dimostrazione che Napoli quando vuole una cosa non ne ha per nessuno e non siamo secondi a nessuno. Una grandissima prova di organizzazione, di civiltà e di compostezza che abbiamo dato al mondo intero. Un ringraziamento ai familiari che hanno compreso quanto fosse assolutamente necessario e indispensabile dare l'ultimo saluto a Pino Daniele dalla sua città. Lo si è visto ieri con le canzoni che sono state ascoltate mentre la bara veniva portata via. Un ringraziamento ai familiari e insieme ai familiari, insieme alla città, insieme agli artisti, ai suoi amici e organizzeremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi una serie di iniziative e di eventi nel ricordo del grandissimo Pino che rimarrà per sempre nei nostri cuori e nella nostra città. No, perché come ho detto adesso lo decideremo insieme e lo annunceremo insieme. Lei sa se esiste la possibilità di ospitare le ceneri di Pino Daniele qui a Napoli? Anche questo dipende dalla volontà dei familiari. Lo abbiamo voluto fortemente, lo abbiamo proposto, il maschio angioino è pronto, sta lì. Se la famiglia vuole, io penso che possa essere un'altra cosa bella per la nostra città ospitare per il tempo che la famiglia ritiene giusto e necessario, qualora, ripeto, lo voglia le ceneri di Pino una volta cremato nella nostra città al maschio angioino. Ripeto, la sinergia, il dialogo con la famiglia tutta di Pino Daniele è stata importante sin dai primi giorni anche ieri io mi sono intrattenuto a lungo con la famiglia, con i figli, alcuni di loro già li conoscevo con padre Renzo, questa persona anche eccezionale che ho conosciuto ieri, quindi insomma il rapporto sarà molto anche con i figli di Pino, perché Pino amava i giovani e nei discorsi che ho avuto con lui Pino mi chiedeva sempre e diceva che insieme si doveva fare sempre di più per i nostri giovani. Quindi il modo migliore per ricordare Pino Daniele è fare qualcosa per i giovani della nostra città, per la musica e quindi farlo con i figli di Pino innanzitutto. I figli di Pino come ieri erano presenti, è stata una giornata molto complicata perché eravamo tutti attraversati da emozioni profonde, anche preoccupate, perché ripeto in sette ore noi alle 11 del mattino abbiamo avuto la certezza che si potessero fare i funerali, alle 11 del mattino ho deciso di farli all'aperto. Una decisione che oggi tutti quanti ovviamente salutiamo con soddisfazione, ma immaginiamoci se non tutto fosse andato alla perfezione. Se è andato tutto bene è perché l'ha voluto il popolo. Quando il popolo vuole una cosa non c'è istituzione che la possa frenare, quindi è la dimostrazione di come la forza di questa città sia l'autodeterminazione del popolo napoletano, che ha scelto da soli, insieme a noi, come organizzare le ultime ore di Pino Daniele nella nostra città. Io credo che è stata una grande pagina di politica cittadina che ricorderò per sempre e della dimostrazione di come oggi Napoli rappresenti l'orgoglio d'Italia, per certi aspetti.